Non c'è puntata di Uomini e Donne in cui Gian Magalgani e Tina Cipollari non abbiano da discutere. Rientrate le vacanze, le due donne sembrano essersi ricaricati a sufficienza per riprendere la loro eterna rivalità. Questa volta oggetto della discussione è stata la sfilata in passerella durante la quale la dama torinese si sarebbe ispirata alla diva per eccellenza Marilyn Monroe. Una volta arrivata in fondo alla passerella, infatti, un getto di aria ha cominciato a far volare la gonna di Gemma che ha provato a imitare le sue stesse movenze sexy e imbarazzate. Le espressioni di Tina e Gianni Sperti hanno però suggerito un risultato ben diverso e l'opinionista si è persino alzata in piedi per guardare meglio rimanendo esterrefatta. Mentre Maria De Filippi si accascia sulle scale ridendo, Tina rimprovera Gemma, ma come ti salta in mente ad interpretare il Marilyn Monroe col vento? Lei, per contro, la accusa di averle rovinato l'esibizione.